Associazioni, comitati, privati, cittadini. In tanti si sono mobilitati durante l'emergenza sanitaria per aiutare gruppi o singoli in difficoltà. Tra loro c'è anche Spazio Conad che questa mattina ha donato un contributo di 1.400 euro alla protezione civile di Fano come segno di riconoscenza per il lavoro svolto. L'ipermercato, rappresentato dall'amministratore Massimo Marchionni, fin da subito aveva manifestato la volontà di collaborare per fronteggiare la pandemia. Dopo un primo contatto con il sindaco Seri è stato deciso di devolvere l'8% di ogni spesa effettuata dai volontari del Cibi Club Mattei per conto di anziani e persone contagiate dal virus. 200 sono state in totale quelle acquistate da marzo a maggio. Così oggi al Codma di Rosciano è stato consegnato l'assegno simbolico al presidente del gruppo fanese Saverio Livi. Ci sembra una cosa importante perché Spazio Conad si trova a Fano e noi vogliamo essere vicini al territorio e vicini alle problematiche che ci sono nella città. In questo caso vicini alle persone? Assolutamente sì, è anche il nostro motto quindi è molto appropriato ecco. Nel ricevere l'assegno Olivi ha ricordato quelli che sono stati i numeri della protezione civile durante questi mesi di Covid-19. La situazione è stata monitorata H24 mentre 41 sono stati volontari impegnati per oltre 7.000 ore e che ancora oggi continuano a prestare servizio. Se da un lato sono diminuite le attività di commissione spesa o medicine, dall'altro è aumentato l'affiancamento alle forze dell'ordine nell'azione anti-assembramento, così come il lavoro dedicato all'allestimento dell'area tamponi per guariti in zona Codma. Dal 9 non ci siamo mai fermati, anzi è diventato tutto un crescendo di attività e di aiuti. A noi le chiamate passano attraverso il comune di Fano, non siamo noi che decidiamo a chiedere supporto ma arriva una mail ai servizi sociali e dal COC noi la gestiamo, se è una parte sanitaria alla Croce Rossa piuttosto che ad altre associazioni, ma il grosso la consegna di computer, la spesa e i buoni pasti l'abbiamo fatto internamente alla nostra associazione. Spazio Conad prima ancora che nascesse una convenzione a livello nazionale anche con l'altra realtà del mercato che abbiamo dei contatti con loro, ma Spazio Conad è stato quello che ci ha contattato per primo e ci ha riconosciuto una parte della spesa. Parte del contributo è stato utilizzato dalla protezione civile per l'acquisto di un defibrillatore. A ringraziare l'ipermercato e i volontari in prima linea al fianco dell'amministrazione e delle forze dell'ordine è stato il sindaco Massimo Seri. In questi anni non ci siamo fatti mancare nulla, abbiamo provato tutte le emergenze in tutte le situazioni e ogni volta ne siamo usciti a testa alta e quindi questo è possibile perché c'è una bella sinergia, un bel dialogo, un bel coordinamento da parte dell'amministrazione, un dialogo con le forze dell'ordine, ma c'è un gruppo di protezione civile straordinario che tanti ci invidiano e basta, lo si vede quotidianamente in tutte le situazioni, c'è la loro presenza che sono uomini e donne che spesso mettono il cuore oltre l'ostacolo e quindi ecco, per me è una bella soddisfazione e non smetterò mai di ringraziarli. Alla consegna ha preso parte anche il primo cittadino di Mondolfo, Nicola Barbieri, insieme al presidente della protezione civile FA di Bruno, Enrico Vitali. Sindaco, non si lavora a livello di gruppo ma di associazione per cui c'è una bella sinergia con Fano. Sì, una bella sinergia tra due comuni e soprattutto tra le due protezioni civili dei due territori e quindi una uniformità anche nel modo di solvergliare le spiagge libere nei nostri litorali. Quindi siamo davvero molto soddisfatti, partiamo anche noi nel nostro comune di Mondolfo con i nostri volontari dell'Associazione di protezione civile FA di Bruno e quindi per controllare le spiagge libere e fare in modo che siano rispettate le misure dei protocolli di sicurezza sanitaria.